Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda nel giorno di San Valentino, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa a perla, facendo entrare Mirko nella casa. I due hanno avuto la possibilità di trascorrere alcuni giorni insieme. Ad un certo punto, però, Mirko è stato chiamato in confessionale e ha dovuto abbandonare il gioco. I due ex fidanzati non hanno avuto la possibilità di salutarsi per l'ultima volta, ma Mirko ha scritto una lettera molto emozionante a perla. Ieri, durante la puntata del Grande Fratello, Mirko e perla si sono incontrati nuovamente all'esterno della Porta Rossa e finalmente è scattato il bacio tanto atteso. Subito dopo la fine della puntata del Grande Fratello, però, sul web è scoppiata la bufera. Mirko Brunetti e perla Vatiero sono finiti nuovamente nel polverone. Il loro comportamento, infatti, non è piaciuto a una fetta di pubblico, che ha criticato aspramente i due fidanzati. Le critiche sono apparse molto pungenti e sicuramente destabilizzeranno la coppia, in particolare Mirko, visto che perla si trova all'interno della casa e non può sapere cosa sta succedendo all'esterno. Qualcuno, infatti, non ha gradito il loro comportamento. C'è chi li ha accusati di essere finti. V.J. Brooke son più veri, ha scritto un telespettatore sui social, facendo riferimento agli attori della sop'opera Beautiful.